Don Davide, perché mai un bel ragazzo come te ha scelto di essere sacerdote? È una domanda che ti avranno fatto tantissime volte. In realtà la risposta è molto semplice. Non ho scelto io, sono stato scelto come tutti noi, poi in qualsiasi cammino da discepoli possiamo avere da sposati, oppure da consacrati, laici, oppure da sacerdoti o religiosi. È sempre, sono io che ho scelto voi, non voi avete scelto me, è stato così nella mia storia. Poi è successo qualcosa di straordinario, ho incontrato Chiara Mirante, la fondatrice dei Nuovi Rizzonti, e mi hanno colpito i suoi occhi, degli occhi che avevano una gioia che io non avevo. Lei mi ha risposto che il segreto della sua gioia era proprio il vivere il Vangelo. Io un po' ridendo ho detto guarda, i Vangeli, i Rosari, i Mess, ho sentito talmente tanti che non è cosa, non è sicuramente questa la via per me. Lei mi ha stoppato dicendomi, Davide, forse tu hai sentito, qualche volta ascoltato, ma provato a vivere il Vangelo è un'altra cosa. Devo dire la verità che il segreto è stato quello, una goccia che piano piano ha scavato il mio cuore, piano piano mi ha aperto la mia anima. Grazie. Grazie.